Quattro vittorie per le formazioni italiane nella seconda giornata di Europa League. Il Napoli vince 2-0 a Bratislava contro lo Slovan con le firme di Amsic e Higuain. 3-0 a Minsk della Fiorentina con Aquilani, Illicic e Bernardeschi. Per Inter e Torino vittorie contro il Garabag 2-0 con Icardi ed Ambrosio. Di misura per i Granata sul Copenhagen 1-0 con il rigore di Quagliarella.